Grazie a tutti. Lei ha trattato di malformazioni e di aborti perché sono patologie rapide che si instaurano rapidamente. Più rapidamente si instaurano le patologie cardiovascolari, c'è un'amprissima letteratura, soprattutto in inglese, che lo dimostra, addirittura con delle relazioni giornaliere alle variazioni di presenza di polvere nell'aria. Addirittura con i ricoveri ospedalieri o con le morti si riusciva a stabilire Inghilterra quando una certa miniera faceva una certa elaborazione piuttosto che un'altra. C'è un'amprissima letteratura, se vuole, gliela posso dare. Lei, sempre pensando nella letteratura inglese, ci sono due casi legati a due inceneritori inglesi in cui si fa un lavoro tutto sommato abbastanza scoprapponibile a soci, cioè si parla proprio di aborti e soprattutto di mortalità per i datari. Questi due lavori, che sono stati pubblicati da quello che è l'equivalente del nostro Istituto Superiore di Sanità, proprio in tedesca, hanno dei risultati che sono molto diversi dai suoi. Sono molto diversi dai suoi non perché lei abbia sbagliato qualcosa, ma perché, a questo è il mio parere, ne hanno dato dei modelli che non sono applicabili, cioè i modelli di ricaduta. Quei modelli di ricaduta non hanno un significato reale, perché quelli sono definibili, riferibili a polveri pesanti. E sono le polveri meno patogene, questo ormai è noto da lavori, anche nostri, ma lavori che abbiamo fatto con la comunità europea, per esempio con la NATO, con la FALA, eccetera. Questi lavori inglesi fanno qualche cosa di diverso, cioè si occupano di vento, perché le polveri, soprattutto quelle più patogene, cioè quelle più sottili, non ricadano, ma si diffondono, e si diffondono in favore di vento. Se lei darà un'occhiata a questi lavori, vedrà come le popolazioni di donne che vivono addirittura ridosso dell'inceneritore, ma sotto vento, hanno zero, partodiscono zero come mortalità, cioè non hanno mortalità per i natali. Appena lei va in favore di vento, la situazione diventa completamente diversa. Se vuole io le posso fornire questi dati, dati di cui io mostro abbastanza spesso anche nelle mie conferenze. Un'altra cosa in questo campo specifico è da osservare, è il decremento della fertilità. Qui a Modena, proprio vicino all'inceneritore, c'è un caso abbastanza notevole, non umano, ma veterinario. C'è una famiglia di contadini, io la conosco perché l'ho studiata io, che ha avuto una piccola famiglia, che è stata affetta da tutta una serie di patologie, che si chiamano nanopatologie oggi e ormai, dappertutto. Io non posso dire né il nome né le patologie di cui questi soffrivano per ovvi motivi di privacy, ma la cosa curiosa è che i conini che questa famiglia aveva non si riproducevano più. Quindi è abbastanza strano perché i conini, è noto che sono abbastanza affetti. Il comune di Modena, per evitare problemi, visto quello che noi avevamo prodotto come lavoro, ha comperato questa casa e questo terreno pagandole una cifra assolutamente spropositata, che cede enormemente il valore di questa casa. Quindi evidentemente le autorità modernesi sono ben... Mi scusi dottore, sta già dicendo chi è, perché non è carino comunque. Sappiamo già che l'indirizzo suoglio, no? Sì, sì, sì. Ha detto che per motivi di privacy non vi dirò questo e questo. Non vi dirò di che patologie erano giocati. Ah, d'accordo, perché sta già dicendo... Non dire no, quella cosa addirittura è stata pubblicata, mi pare, sull'informazione. Quindi è sul giornale. Non solo, ma per motivi di transparenza. No, no, ma adesso è quello che crede. No, no, ma adesso è più corretto non individuare la famiglia che le patologie. No, 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 la famiglia è pubblicata sul giornale. Ma lei non vi chiede a capire... Non solo, ma per motivi di trasparenza il comune ha il dovere di prendere pubblico questo acquisto. Che ha fatto? Ma non è quello che ho detto, fa lo stesso, va davanti. Ma non lo hai capito, se lei... Fa lo stesso, va davanti. Ho capito benissimo, io non mi omino le patologie, però mi omino il caso, perché è stato acquistato col denaro. Ma che crede, io ho capito, ho finito, ho finito, tutto lì. Ah, va bene. No, no, sì, la domanda è molto generale, sulla varietà dello studio. Volevo solo dire una cosa, il nome di quella famiglia è pubblico perché l'abbiamo discusso in consiglio comunale, quindi il problema è zero. Ma non ha controdetto questo dalle strazze, non è una questione di una nascere. Tutto, tutto l'acquisto della cosa, è stato tutto discusso in una commissione pubblica in consiglio comunale. No, il cognome... Non ho negato questo, ho dato, ho fatto un'altra considerazione, ma è questo. Non vediamo al termine tecnico e scientifico, visto che ha fatto delle considerazioni valide, non tutta la polemica. No, no, non è una polemica, era una polemica. No, la mia polemica non è un'intera. Provo a rispondere a due o tre cose, sulle cose che lei ha citato, alcune delle quali effettivamente sono molto importanti. Allora, non è che le patologie cardiovascolari sono più occulte. Quando lei dice mortalità o incidenza, non è che noi abbiamo mortalità perché uno si è ammalato ieri di una patologia cardiovascolare e oggi muore, ovviamente. La patologia cardiovascolare, si intende l'arteriosclerosi, l'ischemia cardiaca, una patologia cardiocerebrovascolare e lei sa che ha decenni o anni di insorgenza. Poi la manifestazione acuta, che può essere l'ictus, può essere l'infarto, può essere ovviamente il decesso, è certamente un fenomeno acuto, ma fa parte delle patologie croniche. Cioè, nessuno di voi si ammala, a meno che non abbia uno sparito dell'altro mondo e gli si chiudono le coronaglie di corpo, e non parliamo di questo, evidentemente. La patologia cardiovascolare, sia in ambito cerebrale che in ambito cardiaco, ha una genesi di placca teromatoso e di spessimento, che è figlia di una storia che periva da anni o da decenni, tant'è vero che viene studiata, gli sa, da molto tempo, esattamente con la testa prospettiva oppure si studia i tumori. Si va addirittura a vedere nel bambino quali sono le premesse, perché l'adulto, una volta diventato adulto, abbia una patologia. Quindi condivido in pieno che l'evento che noi andiamo a studiare sia un evento acuto, morte o ischemia, che ci porta, per esempio, a psicodoro. Ma la patologia che c'è dietro, di tipo cardio, cerebrovascolare, cardiovascolare, insensurato, è una patologia cronica, tranne rare eccezioni dopo che ha eventi acuti, shock anafelattico, situazioni in cui abbiamo una reazione adrenergica rapidissima, ma sono eventi molto rari, magari di certo decessi, c'è nemmeno uno che è così, gli altri 99 sono figli di degenerazioni a lungo termine. Se no, lo studio di Franklin non ci avrebbe insegnato niente. Non ho parlato di patologie, ho parlato di eventi. No, io ho sentito patologie. No, no, ricoveri e morti. Non ho parlato di patologie. Io invece ho sentito, chiedo scusa, su questo avrei un dubbio sulla, e se non ho contestato, sul termine patologie. Il risorso dei modelli, anche su questo la mia opinione è diversa. Innanzitutto noi abbiamo tenuto presente il vento nel nostro modello, esattamente come la meteorologia. Ripeto, nessuno farebbe un modello a giorno d'oggi, cercando di andare davanti a un pubblico, e sulle letterature scientifiche internazionali, se non tenesse conto di questi parametri. E non sono mica d'accordo, anche se io non sono un esperto di queste cose, quindi mi limito a leggere la letteratura internazionale sul fatto che vicino a un inceneritore, e vicino intendo non proprio come raggi concentrici, però intendo sostanzialmente vicino, come qua a Modena, cioè nell'aria di Mitrofa, non ci siano più esposizioni, non ci sia più esposizioni a diossine, furani e metalli. Perché la letteratura scientifica che io ho a disposizione, qua ho alcuni lavori, non ho difficoltà a mandagliarli, dice esattamente il contrario, cioè che in generale, tranne qualche contaminante gasoso, noi abbiamo una ricaduta maggiore, della grande maggioranza di contaminanti, soprattutto di quelli che personalmente mi interessano di più. Cioè metalli, diossine e furani e anche policloro biferili, vicino all'inceneritore rispetto a lontano. Però su questo, secondo me, il nostro dibattito rischia di, come possibile, bloccarsi. Secondo me la cosa migliore sarebbe che noi mettessimo a disposizione di chi ci ascolta. Per l'amore, posso dire, atto di onestà nei loro confronti, la letteratura che tutti e due abbiamo in mente, quando sosteniamo le nostre due tesi. Io credo che ci sia un po' in anche letteratura che si giustifica, prima di che anche il nostro studio sarebbe tutto da cassare. Non saremmo neanche dovuti partire con il nostro studio e con la stragrande maggioranza degli studi pubblicati sulla letteratura scientifica. Ci saranno, cosa, 100-150 studi pubblicati negli ultimi vent'anni su questo argomento. a mia memoria, tutti hanno utilizzato questo approccio, però darsi che si sbagliano tutti. Però secondo me è un approccio che ha un fondamento, questo in base alla mia modo di vedere le cose. E il decremento della fertilità è un argomento molto interessante, che non faceva parte dello studio che abbiamo iniziato, che potrebbe essere studiato. E' una cosa tremenda studiare la fertilità, perché questo sì che vuol dire andare a intervenire dentro ogni famiglia, per sapere la volontà di avere figli, la frequenza dei rapporti sessuali, le caratteristiche della donna, la sua storia. Cioè, capire quanti bambini nascono, sulla base di quanti ne sarebbero potuti nascere, è una cosa terribilmente difficile. C'è chi ci ha provato, è una sfida interessante della produzione scientifica, però qua dovremmo fare non solo il passo avanti dal questionario, ma un passo ancora più avanti di entrare molto in profondità, diciamo, nell'intimità di ogni contesto familiare. È fattibile, è complesso. Se uno vuole arrivare lì, ci si può arrivare. Bisogna attrezzarsi con un'indagine completamente diversa ad hoc. Quindi non dico che l'argomento possa avere una sua dignità scientifica, mi pare un argomento molto interessante. Però vuol dire aggiungere un outcome, aggiungere una valutazione e essere disposti sul piano metodologico. Io, come ricercatore, non ho mica nessun problema. Però faccio presente che la metodologia, ovviamente, deve essere estremamente, passatemi il termine, aggressiva nei confronti delle famiglie che accettino del coppia, insomma, che accettino di tal parte di un studio di questo tipo. Tutto si può fare, tenete conto che è così difficile studiare questo aspetto se uno lo vuole studiare con estrema precisione, se uno si può essere contenta di guardare il numero dei nati su coppie che ci sono, però questo è un dato molto grossolano, perché ci sono tante variabili per cui una coppia può non avere figli e non interessa non sapere se non li vuole avere, ma se li vuole avere e non li ha. E questo, naturalmente, è l'aspetto che si riferisce alla fertilità. E per capire questo, dobbiamo entrare molto in profondità nella vita interna di ciascuna coppia. Quindi, sono assolutamente d'accordo sull'interesse scientifico, è molto poco studiato, anche perché è molto difficile da studiarsi, ma non nascondo che fa parte di tutte le cose che possono essere di grande interesse.